32 comunità, 16 tappe, 3 mesi di manifestazioni, a cominciare da quella inaugurale di Biti, in programma il primo e il 2 settembre, ventitresima edizione delle Cordes e diciottesima di autunno in Barbagia. Sono questi i numeri dell'edizione 2018 di autunno in Barbagia, il circuito di marketing territoriale promosso dall'ASPEN, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro, un evento che coinvolge gran parte delle comunità del centro Sardegna e rappresenta il circuito europeo più esteso che consente a chiunque venga nell'isola da settembre a dicembre con le tappe conclusive di Ovo d'Eurone, di immergersi nella cultura, nelle tradizioni e assaporare l'enogastronomia del territorio. Il programma e i numeri di autunno in Barbagia sono stati illustrati stamattina nel corso di una conferenza stampa da Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Roberto Cadedu, presidente dell'ASPEN e da Roberto Sau, funzionario dell'azienda speciale della Camera di Commercio. Sono state ricordate le partnership con Banco di Sardegna, Tiscali, Grimaldi Line e Mobiline, il supporto della regione Sardegna. Nell'edizione passata sono stati quasi mezzo milione i visitatori che hanno partecipato alle tappe di autunno in Barbagia, una sfida vinta sotto il profilo della quantità e che impone ora di confermare quella della qualità. All'incontro sono intervenuti sindaci e amministratori locali che hanno presentato il programma della tappa prevista nel loro paese e posto l'accento su alcune criticità come quelle dello smaltimento dei rifiuti o della sicurezza. Su questo fronte la Camera di Commercio è impegnata insieme ai partner istituzionali a cominciare da Vigili del Fuoco, Asle e Guardia di Finanza a garantire supporto alle amministrazioni comunali.